Allora è arrivato il falco pellegrino e direi anche in ottima compagnia Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Captain Tsubasa Dream Team Cominciamo subito col dire che in questo video faremo oltre 1000 Dream Ball di estrazione Quindi per Dov'Edi Cronaca farò una velocissima player review di Nita per tutti i nostri iscritti Ma poi andremo subito all'estrazione La player review ragazzi sarà velocissima anche perché l'abbiamo già visto Dobbiamo andare a vedere solo i parametri praticamente E comunque la faremo e poi andiamo tutto di estrazione Mi raccomando ricordo ragazzi chi vuole entrare nel gruppo Telegram del nostro canale Mi può contattare su Telegram al Chiocciola Cataldo 91 è il mio tag su Telegram E potete venire lì dentro Troverete accogliere le indicazioni sul gioco O un clima come piace a noi Come si deve Allora Ed eccolo qua il nostro caro falco pellegrino Shunita La prontezza del bomber giapponese Allora La provenienza è il gol del 23 Stavano a 1094 Dribbling a 9032 Tiro a 9377 Passaggio a 6956 Poi contrasto 8704 Blocco a 5400 416 Intercettazione a 7167 Forza fisica 8229 La velocità 5969 La potenza 7026 La maestria Quella potenza là Maestro del rigore A 15% parametri L'aumento dei parametri Quindi comunque poi quella potenza aumenta Nel rigore E ci sono Volo Rasoterra Del Falcone 475 Impeto massimo 400 Il consumo stamina Calcio Waccadorio Definitivo Del Falcone 475 Impeto massimo 435 Il consumo stamina Per il tiro Da terra E poi il dribbling All'alta velocità Le tecniche di Nitta Sono disponibili Sugli altri Nitta Chiaramente E l'ho detto E lo ripeto Saremo rapidi Andiamo a valutare Quelli che sono i legami Con 3 o più giocatori Giapponesi Di tipo resistenza Più 2,5 Più Più 10% Per la tecnica speciale Palla bassa Quello sotto E palla alta E il recupero Dello stordimento Fissato al 50% La riduzione Del tempo Di stordimento E come promesso Passiamo subito Alle estrazioni Allora Qui partiamo Con il nostro Caro amico Valerio Allora Con il nostro Caro amico Valerio Ragazzi Chiaramente Farò un'opera Di tagli e cuci Perché ci sono Veramente Sia singole Che multiple Ma quella partenza Partiamo Partiamo da Quazione 69 Dreamball Poi lui fa Una piccola ricarica E riparte Quindi Sono pure di più Comunque Vediamoci Godiamoci questa partenza La prima singola Per Valerio Che è Vuota Questo lo poggi Se non faccio l'umore Da fastidio poi Allora Allora Sia che la camera La posso tenere pure là Perché così C'è un cerchietto nero Attorno Che da Ma ecco Adesso passa subito A una multiple Credo Infatti Valerio alterna Singole e multiple Ma devo dire Che lui è stato Quello più Diciamo Che ha fatto Parecchie multiple Allora Prima multiple Per Valerio Vediamo un po' Che tiro Vediamo un po' Che tiro Come Va Il format Lo pullo per catalto Se continua a portare fortuna Come sempre Chiaramente ci vuole pazienza Ci vuole calma Le dream ball ci sono Ci saranno Arriveremo all'obiettivo Chi lo sa Vedremo Questa È Vuota Purtroppo Anche la prima multiple Per quanto riguarda Valerio È Vuota E Oh Billy Ragazzi Magari lo conoscerete meglio così Anzi Lo conoscerete tutti così Sono io So come si chiama In real Diciamo Allora Poi andiamo Singola 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 Singolettina Vediamo un po' Vediamo un po' Questa è vuota Iniziamo Per operare Un'operazione Di Operare Un'operazione Bellissimo Spettacolare Di tagli e cuci Tra poco Perché ripeto Non vorrei fare un video Di 954 minuti Di durata Allora 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 Mesta è un'altra Singoletta Vuota E Qua Allora Riprendiamo da qua Multipla Per Valerio Allora Dai Andiamo Le Trimble Sono scese Quindi sono già Più o meno Quante saranno 150 Che l'ha tirato Valerio Dai E Valerio Non ti preoccupare Che c'è il format Che ti aiuta Qua c'è l'SSR C'è l'SSR Attenzione Speriamo sia buono Speriamo sia uno utile Non è il primo Quindi non mi devo spostare Perfetto Perché solo là Do fastidio Con questo Rimpicciolimento Che c'è così Mi piace Questo contorno nero Che c'è attorno Non mi piace Se no devo fare La camara piccolissima Vediamo un po' Chi esce Vediamo un po' Oh Levin verde Mannaggia Non va bene Non va bene Non va bene Eh sì Siamo a 2,99 Eriamo a 4,69 Più o meno 99 Diciamo sono 200 Trimble Dai Più o meno Siamo così Allora Vediamo Rivediamo Adesso riparte Di singole Valerio È chiaro che Dobbiamo Vedere un po' La situation La situa Anche perché Valerio Me ne ha mandati Due di video Quindi nella seconda partita Io chiaramente Cerco di non guardare Per fare una reaction Il più Sorpresa possibile Qua c'è da operare Un tagli e cuci Generale Per rientrare Nei limiti Di un video Che non sia Troppo Lungo Però le estrazioni Ci piacciono Vi piacciono E quindi Sono sicuro Che comunque Lo guarderete E più o meno I momenti salienti Ci saranno Quindi tutte estrazioni Che escono SSL Quindi Non c'è nemmeno Tanto da schippare Allora Vediamo un po' Qua scianzi E tutti Ma non c'è Nulla E' un'altra Singoletta Vuota Purtroppo Questa Riprendiamo Da qua C'è un'altra Multifa Credo E Voleva andare Diciamo Più o meno Dove Mi piacerebbe Trovare A A Valerio Anche se io Preferirei Raffael Al posto suo Perché gli mancano Sia Raffael Che Michael Traito Preferirei Raffael Tutto la vita Poi dipende anche Uno Gli incastri Che c'ha Quello è vero Però Questa è una singola Allora Più o meno Dovremmo essere Indirittura Ad arrivo Con la prima Trange Che ci ha mandato Adesso Vediamo un pochettino Sì Sì C'è una Credo Una Una Multipla Da vedere Ancora Un'altra singola E poi passiamo Alla seconda Tranche Di Valerio Sempre Per Quanto riguarda Queste Estrazioni Un'altra singola Purtroppo Le penne c'erano Ma è Vuota Anche questa Diciamo così E qua Riprendiamo E qua Riprendiamo E qua Riprendiamo Con la seconda Tranche Come vedete C'è stata una piccola Di carichetta La parte sua L'ho detto Ce ne saranno Più di mille Dreamball pullate Noi stiamo Tagliamo De cucendo Però Partiamo con La prima Ultima Della seconda Tranche Che il Lo pullo Per Cataldo Sia con Te Valerio Dai Qua voglio SSR A manetta Ce lo dico Voglio SSR A manetta Ok C'è l'SSR C'è l'SSR C'è l'SSR Confermato Anche dalle Donnine Viola Che escono Ed è il primo Proviamo a scendere Un po' sotto Vediamo Di chi si Tratta Di chi si Riguarda Era pure Spettacolare Rivalo Peccato Che doppione Quello Uno degli ultimi Rivali Usciti L'SSR C'è qualcosa Di stato Il momento Dai Magari Valerio È il momento Di Come dire È il momento Buono Vedremo Dai Vedremo Vedremo Forza Valerio Crediamoci Qua si è un po' Fermato a pensare O a Scarrellare Non lo ricordo Eccolo La Seconda Multipla Del secondo Giro Per Valerio Dai Forza Valerio Dai Ancora SSR Voglio Ancora SSR Voglio Ancora SSR E che Magari Più di uno Una volta Ogni tanto Non lo fai Sto favore Non è che Ci arrabbiamo No In solito Oh Roberto Roberto Dolly Bello Bello Viale Dei ricordi Poi 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 Qua Ce ne Possesse Pure Due E Uno E Uno E Uno Pero 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 Andiamo Vedere Andiamo A vedere Di chi Si Tratta Andiamo A vedere Di chi Si Tratta Andiamo A vedere Di chi Si Tratta Terra Clivort Dreamfest Fuori Le tap Pensate Un po' E Vabbè Arriva Il primo Dreamfest Iniziamo a fare Miglioramenti Iniziamo a fare Miglioramenti Sembra Un momento Buono E Evidente Che Clivort Una volta Era un Fenoma Adesso Un po' Meno Però 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 È sempre Un Dreamfest Quindi Mai Lamentarsi Di ciò Altrimenti La sorte Ci viene Versa Poi Quindi Andiamo Ad aspettare Un altro Po Vendrai Far tutto Valerio Ormai Con noi Fa questo Format Da diverso Tempo Perché Sa Che Se vuole Avere Fortuna Deve Fare Lo Dai Lo so Sto chiedendo Molto Magari Poi Tre di Fila Però Chi lo sa Dai E ripeto Se qualche volta Ce ne dai Più di uno Non ci arrabbiamo Allora Dale 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 Sono ovviamente Tante le Dreamball Da parte di Valerio Sì È quello che Ce l'ha mandato di più È quello che ce l'ha mandato di più In assoluto Chiaramente Noi tagliamo Cucciamo Tagliamo Cucciamo Questa c'è la freccia Arcovalelo Quindi C'è l'SSR Le invocation Che ho fatto Questa volta Mi hanno ascoltato Le femmine Lo confermano Vediamo Se si mi ascolta pure Sul 2 È difficile No invece c'è Invece ce ne sono 2 Ce ne sono 2 Ce ne sono 2 Che però Sono alla fine Attenzione Oh My Goodness Oh My Oh My Questo è brutto Questo è veramente brutto Valera Non dobbiamo perdere la speranza Dato parecchi SSR Non dobbiamo perdere la speranza E dobbiamo provarci In tutti i modi Devo scegliere qualcuno Di queste retappe Perché se no Non ce ne sono utenti Andiamo alle singole Andiamo alle singole Vediamo se riusciamo A cavar dal buco O Rafael O Michael Perché da quanto ho capito Quelli Quelli che cerca Quelli che cerca Valerio sono quelli Sono quei due La prima Singola è vuota E abbiamo 100% Che c'è pure Della singola SSR Dai 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 che ce la facciamo Vale Forza 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 Dai Valerio Dai Valerio Che ce la facciamo Mettiamo a posto te E poi cerchiamo di andare A mettere a posto Anche gli altri Vediamo un pochettino Allora 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Alziamo il tono Dei decibel Errore di connessione Che questo è capitato A Valerio E adesso la recupera E poi la mette al centro Vediamo se Sembra di fare una telecronica Calcistica In questo caso E' chiaro che Vediamo un pochettino Se c'è l'SR Qua O se è un'altra Singola vuota Vediamo un po' Ci sta pensando Valerio sta cliccando Poi lancia Ma non va Poi alza il multimedia Che noi abbiamo Chiaramente abbassato Ed è vuota anche questa Probabilmente E' sì E' vuota anche questa Singola E vediamo Valerio Non disperiamo Le tribole ancora ne abbiamo Cerchiamo di farcela Arriva uno di quei due Arriva Te lo dico io Se te lo dico io E' così Se te lo dico io E' così Ci puoi mettere la mano sul fuoco Ci puoi mettere la mano sul fuoco Dai e valè Dai e valè Continuiamo Crediamoci Ce la facciamo Alziamo il volume Anche della voce Così Arriva qualcosa Di più elevato Perché qualcosa È arrivato Ma dobbiamo Sperare in quelli Che vuole Valerio Quindi uno Tra i due Spagnoli Dai 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 Questo è quello Trucchetto E' un po' C'è pure il video dei ricordi L'ha schippata Ma io non lo so Eeeeeee Aveva schippato Raffaello Valerio Troppo precipitoso Troppo che non ci credeva Ma il lo pullo per Cataldo Dà sempre i suoi frutti E Valerio Lo abbiamo messo A posto Con Raffaello Eccolo qua Bella 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 Poi lui continuerà Ma non E' chiaramente Vediamoci un'altra singola Ma Valerio L'abbiamo messo A posto così No siamo a 15 minuti Direi pure di staccare E passare al prossimo Allora Questo è Michele Purtroppo ce l'ha mandato strano Vi faccio vedere Solo questa Infatti Ha trovato Dalla singola Ehm Michael E i team Michele Ce l'ha mandato Tutto storto Tutto strano E quindi noi Vi facciamo vedere Solo questa Salutiamo anche Michele In base a questa parte del video Forse verrà un po' girata Non so come verrà Però Oh Ce l'ha mandato storto Noi non possiamo raddrizzarlo E quindi Ha trovato Michael Tra l'altro Non se l'ha nemmeno goduto Subito ha cambiato Va bene Ciao Michele Ciao IT Qua partiamo invece Qua partiamo invece con Francesco Francesco Fran-co-so Altrimenti conosciuto O meglio conosciuto Come Fran-co-so Allora Siamo all'inizio 255 dreamball Di i team C'erano anche altre Arrivava un totale Di 300 dreamball Chiaramente noi poi Abbiamo schifato Perché era tutto storto Quel video E a Francesco Di Francesco Adesso ci organizziamo Come e cosa Far vedere Di Francesco Andiamo un pochettino Vuota anche questa singola Chiaramente lui Mi ha detto che andava Tutto di single Di single Di single Di singole E quindi Stoppiamo Allora Vediamo se portiamo Forse anche Francesco Continuando con queste singole Allora Vediamo un pochettino Vediamo un pochettino Dai Dobbiamo sistemare Solo Francesco Perché abbiamo fatto prendere Raffaella Valerio E Michael A E i team Michele Quindi Devo dire che finora Il lo pullo per Cataldo La fortuna L'ha portata Adesso siamo con Francesco Che è andato tutto di singole Come ci ha detto Ah chance E questo è trollero Quindi può essere Può essere Vatti c'è il viale dei ricordi E lo stesso fatto di E vatti c'è le sessere E lo stesso fatto di Valerio Vediamo se anche il risultato Sarà lo stesso Vediamo un po' E No E un soda Purtroppo anche doppione Abbastanza inutile E lo stesso telefono Mi sa Francesco Tra altre cose E poi io lo devo chiedere In prima Da Francesco Che te la conosciate Più o meno il volume Si alza così pure Da me C'è quella cosa là In quel modo Ok E Va bene Questo vediamo Se è pieno e vuoto E poi Schippiamo Andiamo più avanti Di più di nessuno Purtroppo sì Arriveremo Lo stesso a 20 minuti Però ragazzi C'era una mola di Dreamball Assurda Grazie a tutti